La partita complicatissima con due periodi bellissimi e due un po' meno e poi alla fine la grinta per vincere. Sì, c'è da vedere se un po' di demerito nostro c'è nel terzo e nel quarto set perché ci siamo lasciati sopraffarle da loro e questo non dovrebbe succedere. O meglio, dobbiamo farlo succedere il meno possibile. Ammetto che loro secondo me hanno provato veramente ottime soluzioni e tantissimo coraggio in battuta e in attacco, quindi bravi. Siamo stati poi di conseguenza timidi. Bene però il quinto set e adesso dobbiamo un po' resettare. Come siamo ripartiti dopo quattro set qua, dobbiamo respirare, riposare e lunedì riprendiamo e andiamo a manciare un po'. Comunque qualche conto è vincere, la vittoria c'è stata e Pala Borsali è rimasto anche una fortezza ancora inviolata. Speriamo, speriamo. Non vorrei essere quello che fa cadere questo record. Sì, purtroppo i tre off sono così dentro e fuori e tutte le gare l'importante è solo vincere. Il come è da analizzare perché dobbiamo analizzarlo, però conta solo quello. Quindi portiamoci via la vittoria, mettiamo in chiaro le idee di quello che è successo e portiamo a gara di fare.